Rete a confermare, è regalato, guardate che meraviglia, regalato 29 euro, eccezionale, troppo troppo carino, bellissimo, con tutte le margherite, guardate che bello, stanno arrivando le chiamate amiche, ne ho 5 di questi, 5 pezzi, è in super prova 29, favoloso, sta suonando già tutto volate, Gonna Pantalone, Veronica da Sormano, un bacio, ciao Monica, un bacino, grazie, 29 euro, correte, sono favolose, Gonna Pantaloni, misto, seta, veste fino alla taglia 56, regalata, ce l'hai tutte lì, bravissimo, Amiche, queste sono 5 pezzi, volate perché è uno special prize, per farvi già partire con il piede giusto, in questo venerdì dedicato a voi, molto carina, da portare tutti i giorni, è favolosa, regalata amiche a 39 euro, è uno spettacolo, parliamo di un effetto vintage, per quanto riguarda il lavaggio del pellame, Tutto è in doppia cucitura, la gancio è brunito, 39 euro per voi, è regalata, bellissima, 39, dimmi Giorgi? Anna da Forte dei Marmi, beata a te, un bacino, ma lì sì che te li godi i caftani, alle belle borse, brava, un bacione alla nostra Anna, grazie, bellissimo anche il nome, Allora amiche, guardate che meraviglia, borchiata, pelle, tutta foderata all'interno, con cerniera lampo, regalata 39, volate a confermare, 49 euro, aperto, chiuso, bravissimo, favoloso, Verde, ora arrivano gli AK22 amiche, alcuni sono in promozione e altri meno, bellissimo, 49 euro regalato, favoloso, parliamo di seta all'80%, parliamo amiche di un pezzo veramente importante, 49 euro, uno solo, verde smeraldo e blu, è eccezionale, bello, 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 amiche, sono cose che non possono aspettare, perché sono regalate, belle, 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 Molto sciccoso, ripeto, molto molto elegante, lo portate aperto e lo portate chiuso, qui dipende solo da voi, mamma mia amiche, grazie, 49 e unico, Non te l'ho detto, scusami Giulia, questo qua è l'1191, sì, 1191, bellissimo, è un amore, sono tutti al telefono amiche, Vi invito a confermarli, perché sono eccezionali, 29 euro, prezzo favoloso, pantalone stile Versace come disegno, elegantissimo, regalato a questa cifra, sono bellissimi, un amore, Vai, borse sul tavolo, cerniera, foderata, bellissima, 45 euro regalata, sono borse, care amiche, ve lo dico, questi sono prezzi veramente ridicoli, Te ridicoli, bellissime, ma ritiro via, siete uniche, però io vi ho fatto un prezzo qui, parliamo di misto, seta al 70%, scontato in saldo a 29, E' un amore, è un amore, brave, questi qua si portano anche in città, amiche, questo è un pantalone fine, con un toppino, Con un'incrociatina anche la sera, bellissimo, molto elegante, a 29 euro, che voglio dire, turchese, viole, rosa, colori eccezionali, fantasia Versace, regalati, regalati, Tutta nera, guardate che bella, 59 euro, 59 euro, favolosa, veramente elegantissima, Borsa stile Chanel, chiusura borchiata, 59 euro, la rossa via, bellissima amiche, guardate, 29 euro, regalato, bellissimo, Amiche volate, sono favolosi, fai un attimo rivedere le borse per la signora, poi torniamo sui pantaloni, amiche, innamoratevi di questi abiti, perché sono veramente stilosissimi, 59 euro, Un sogno che si realizza, correte, modello Ibiza, fantasia sul verde, eccezionale, guardate che meraviglia, con i ciuffetti in seta e le bull argentate, unico, costava 139, Qui avete, vedete, bellissimo la scollatura sul retro, guardate che amore, è eccezionale, 59 euro, regalato, 59 euro, bellissimo, bellissimo, oro e verde, verde esmeraldo e verde acqua, bellissimo, è un amore, 70% pura seta, un amore, No, scusami, questo è 80%, Giulia, bel amore, amiche, sono tutti elasticizzati sul retro, quindi non avete problemi, lo regolate, bellissimi, 59, linea Ibiza, una linea più grintosa, molto fashionisti, bellissimi, è un caftano bellissimo, 70% pura seta, guardate il movimento, elegante, particolare, si mette con una ciabattina, si mette con un bel sandalo la sera, vi veste, è veramente un amore, parliamo di tutti i misti seta, per la nostra linea eccezionale, eccezionali! Grazie a tutti!